Nella mattinata di sabato 16 novembre, nei pressi della piazzetta della frazione di Viola a Teramo, si è tenuta la cerimonia di intitolazione all'imprenditore Alfredo Giovannozzi del tratto di strada che dalla provinciale porta all'interno del borgo. Giovannozzi scomparso nel 1974 era titolare della ditta di lavorazione del marmo, Oreste Giovannozzi è figlio, ed è stato insignito nel 1964 dell'onoreficenza di Cavaliere della Repubblica dal presidente Antonio Segni. Il suo attaccamento al lavoro e al territorio lo ha portato anche a sostenere la nascita della Cassa di Risparmio della provincia di Teramo e ad essere socio fondatore della Banca Popolare di Teramo. Nel cinquantenario della scomparsa di mio nonno abbiamo deciso di intraprendere questo percorso già da un anno fa per avere l'intitolazione di una via ad una persona che ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo economico della città, ma non solo della città, ma anche della provincia e della regione. L'azienda che ha fondato mio nonno era un punto di riferimento per la lavorazione e la vendita del marmo in tutta Italia. Noi lavoravamo il marmo per tutti, per chiunque, eravamo considerati dai proprietari delle cave di marmo di Carrara, di Tivoli e non solo tra i clienti principali. Questo dà la dimensione di quella che è stata l'azienda creata da mio nonno, ma per questo territorio ha fatto anche tanto altro. Purtroppo non so se il nostro cognome a Teramo avrà un seguito, nel senso che non ci sono altri giovannozzi dopo la mia generazione che possano tramandare il cognome. Questa pietra rende omaggio alla nostra storia, a quello che abbiamo fatto e soprattutto ci lascia nella storia di Teramo e penso che sia, e ringrazio per questo il sindaco, l'amministrazione comunale, la commissione toponomastica, il giusto riconoscimento per una persona che ha combattuto per la parria nella prima guerra mondiale, si è distinto, aveva l'onorificenza di Vittorio Veneto, cavaliere della Repubblica e medaglia d'oro per quello che riguarda l'attività industriale della Camera di Commercio di Teramo e ha dato tanto a questo territorio. Nella stessa mattinata il sindaco di Teramo, Gian Guido d'Alberto, è intitolato il tratto di strada tra via Antonio Biondi e via Elio De Cupis, al poeta dialettale Walter Cavuti e i giardini che si trovano in prossimità dell'ufficio anagrafo e all'intellettuale poeta e pittore di origini marchigiane ma trapiantato a Teramo, Leno Rossi. Sì, una giornata importante dedicata alle intitolazioni, Walter Cavuti la prima, un poeta dialettale oltre che un uomo che ha amato la nostra città con iniziative importanti che hanno lasciato il segno, Leno Rossi, artista poliedrico, pittore e poeta con le sue opere che sono ancora ospitate all'interno della nostra pinacoteca e poi Alfredo Giovannozzi, una figura teramana straordinaria, un industriale che ha lasciato il segno nella vita economica e sociale di Teramo, una traccia importante, un uomo che ha avuto anche riconoscimenti da parte di altri livelli istituzionali, ovviamente il cavalierato dal Presidente della Repubblica, la medaglia d'oro e i meriti lavorativi, ecco anche la sua interpretazione del ruolo di imprenditore che ha consentito di costruire non soltanto un'azienda importantissima per il territorio ma anche una comunità di lavoratori che ha messo sempre al centro la persona. Noi interpretiamo così la toponomastica, segnare i nostri spazi, gli spazi della nostra città con il ricordo di figure che hanno fatto la storia affinché il loro esempio possa restare nel presente e nel futuro. Con Giovannozzi, così come Percavuti e Rossi, oggi Teramo ha fatto questo, riconoscendo queste figure importanti, straordinarie, che ovviamente rappresentano un esempio anche per le future generazioni.